primo barbo dalla giornata altro posto spot con un buon fondale barbo che tre chili e mezzo chili e mezzo pescato su un fondale fondale da otto metri con finale del 0 14 e mezzo un bel squalotto andiamo col secondo rilascio secondo pesce dopo un quarto d'ora dal primo dai siamo forse riusciti dopo un'oretta di ricerca perché l'acqua è molto lenta 5 grammi sono troppi provato tre grammi tre grammi è troppo poco cioè troppo è ancora troppo però non riesco più uscire dopo e niente abbiamo rimesso il 5 grammi ma con una lenza del tutto speciale e siamo riusciti ad andare a beccarli allora te ne esci caro dai su su dai ok